È evidente che noi abbiamo avuto in Italia, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, abbiamo avuto un sistema di contratti flessibili, nel senso che, essendo che nel nostro Paese non ci sono delle forme contrattuali che aiutano l'inserimento dei giovani oppure delle facilitazioni, tra l'altro nel nostro Paese funziona all'opposto, nel senso che ci sono delle facilitazioni per le imprese che assumono, per esempio, gli over 40 piuttosto che gli over 50. E quindi i nostri giovani che cosa fanno? Nel momento in cui acquisiscono il titolo di studio, quindi che può essere il diploma o la laurea, sono attratte da questa esperienza verso i Paesi europei, che hanno molto probabilmente un sistema contrattuale diverso dal nostro, quindi che favorisce il loro inserimento nel mercato del lavoro. A few altri ha anche invece nelle persone che hanno chiamato il e i taliare in Italia sono iniziative per gli altri sono iniziative e lavorare iniziative e lavorare con attraverso E il riconque a più ricordare a venire a venire alla stessa Laura è stato un po' di italiano Non è stato un po' di riconque E' stato un po' di riconque E' stato un po' di riconque e sono un po' di riconque e che ci sono iniziative a fare un po' di più, ma che mi senti iniziative a fare un po' di più, ma che mi senti in Italia, magari in Italia ci sono un po' di più, che mi senti iniziative a fare un po' di più. L'esperienza e sapere tutto. Ma loro se li colorano per dirti. Non c'è una cameriera, lavorerò in sala. Comunque, no, non hanno neanche loro il contratto a tempo determinato, hanno un contratto a termine anche loro. Si può lavorare un giorno a settimana, tre giorni, come un giorno al mese. Non c'è una regola fissa. Questa volta lavoro due giorni. ... ...